Per lanciare l'ibrido ricaricabile, Citroën punta su una delle sue best-seller, C5 Aircross. Grazie alle sue doti pratiche e al suo stile inconfondibile, il SUV francese si è già imposto come protagonista in un segmento affollato, come quello dei SUV di medie dimensioni. Con C5 Aircross Hybrid, Citroën amplia le possibilità di scelta, oltre che delle personalizzazioni anche nel lato propulsori. La prima plug-in del marchio si basa su una nuova motorizzazione ibrida alla spina, già ben collaudata nel gruppo PSA, con due motori che insieme sviluppano una potenza di 225 CV e 320 Nm di coppia. Numeri che ben spingono il peso di una vettura senza grandi belletà sportive, rendendola vivace e al contempo contenuta nei consumi. La batteria permette al propulsore elettrico di compiere fino a 55 km a zero emissioni, il necessario per gli spostamenti giornalieri casa lavoro. Grazie alla funzione E-Save, C5 Aircross Hybrid consente anche la massima flessibilità di utilizzo del propulsore elettrico, potendo conservare un certo quantitativo di energia, utile ad esempio per chi abita nel centro cittadino ed ha bisogno di un po' di carica residua per entrare nelle zone ZTL. Una delle prime qualità che emerge al volante di C5 Aircross è il comfort, accentuato in questo caso dall'allestimento top di gamma, nel quale viene offerta la propulsione ibrida, e dalla silenziosità dell'elettrico. Anche in termini di sicurezza, la prima plug-in di casa Citroën non si fa mancare niente. Dal monitoraggio del traffico alla stanchezza del conducente, la gamma completa di assistenti alla guida è sempre reattiva, salvandoci da situazioni di pericolo. Grazie a tutti.